Ciao a tutti ragazzi, allora in questo nuovo video vi faccio vedere come realizzare un semplice quadrifoglio in fiume. Allora, l'esempio è questo qua, che avevo fatto io, quando non avevo il panetto verde, quindi avevo mischiato giallo e blu, e ne ho fatto un orecchino. Allora, iniziamo. Per risparmiare tempo ho già iniziato, io vi faccio vedere solamente il procedimento. Allora, bisogna prendere quattro palline di fiume verde, schiacciarle leggermente, e poi con uno stuzzicadenti vi aiutate e fate la forma di cuore. Ecco, in questo modo. E ora, poi fate lo stesso procedimento per le altre palline e andate poi ad assemblarle insieme per fare un quadrifoglio. Io le sto schiacciando perché c'è il buco in mezzo. Ok, ora diciamo che devo aggiustare. Non è venuto proprio bene, però se vi mettete lì con calma vi verrà un risultato carino. Insomma, a me questo qua piace un sacco. E quindi, il procedimento è questo qui, è molto semplice. Anche se questo qui non è proprio il massimo della bellezza, spero che voi abbiate capito come farlo. E ci sentiamo al prossimo tutorial. Ciao! Ah, un ultimo consiglio. Io abbino questo orecchino con questa cucinellina qui che ho sempre fatto io in fimo. E non so, mi metto su un lobo questo e sull'altro questo qua. Non so, me lo trovo carine. E niente, ci sentiamo al prossimo video. Ciao!